Il via vai nei vicoli, la tradizionale cioccolata calda e la santa messa che apre la festa. Bari si è illuminata fin dalle prime ore del giorno in onore di San Nicola. I migliaia hanno reso maggio al santo patrono affollando la città vecchia. La lunga giornata è cominciata alle 4 con l'apertura delle porte della basilica e il suono delle campane. Un'ora dopo la santa messa, prima di una lunga serie, è preseduta da padre Giovanni Distante. Fedeli, curiosi e turisti hanno fatto colazione gustando i prodotti della tradizione, dolci, pettole, manche sgagliozze accompagnate dall'immancabile cioccolata calda. La città è tornata a vivere dopo la pandemia di Covid che ha in parte stoppato le antiche usanze del 6 dicembre. Finalmente dopo le restrizioni torna San Nicola, la città vecchia ha aperto le porte, le finestre al nostro santo patrono che è sicuramente un monumento della chiesa, però è anche un po' patrimonio dell'umanità grazie ai suoi messaggi di fratellanza, di accoglienza, di pace in questo momento particolare. Anche quel ruolo di San Nicola, quella dimensione anche internazionale, geopolitica, di collegamento tra l'Oriente e l'Occidente. Tanti i baresi che hanno reso omaggio al santo chiedendo la pace nel mondo e la fine dei conflitti armati. Pace, pace, gridava la gente questa mattina durante una fiaccolata che si è snodata in città. E noi vogliamo che la pace si realizzi e se noi ci lasciamo accompagnare da San Nicola, farci prendere per mano da San Nicola allora qualcosa senz'altro si potrà realizzare e penso anche in un prossimissimo futuro. In migliaia hanno affollato il piazzale antistante la basilica imbattendosi in Paolo Caradonna, geometra o meglio conosciuto come il San Nicola dei Baresi. Un'occasione imperdibile per scattare una foto o un selfie e ricordare questa magica giornata. La cosa bella è avere questo riconoscimento della cittadinanza per stare per una foto, per un ricordo di San Nicola. I festeggiamenti in onore di San Nicola proseguiranno fino a questa sera, alle 21 in programma la processione con la statua del santo, mentre alle 21 e 30 ci sarà l'atteso spettacolo pirotecnico al molo di Sant'Antonio.